Nonostante il periodo non fosse dei migliori per aprire una nuova attività, siamo riusciti lunedì il 16 di novembre ad aprire una nuova posta privata a Bottega di Vallefoglia in via nazionale 112 vicino al Conrad City, grazie anche all'aiuto del sindaco Palmiro Ucchielli, del consigliere regionale Biancani e grazie anche all'aiuto dell'assessore Ghiselli. Noi abbiamo gli orari continuati dalle 9 alle 18 e il sabato è chiuso a causa del nuovo DPCM e finita questa pandemia saremo aperti comunque mezza giornata, orario continuato anche di sabato. Allora siamo riusciti finalmente a portare la posta qui a Bottega, dopo comunque sia parecchio tempo che provavano appunto a portare questo servizio ai vari cittadini di questo comune, visto che comunque sia dovevano sempre arrivare in zona Montecchio, visto che c'è diciamo un'unica posta qui nelle zone limitrofe. Come ha detto il mio principale Francesca Esposito, siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, sabato e domenica siamo chiusi causa del nuovo decreto DPCM e quindi vi aspettiamo qui in via nazionale 112 e vi aspettiamo numerosi ovviamente. Per quanto riguarda invece la parte dei servizi che il singolo cittadino può venire qua a svolgere, se anche brevemente ce li elenchi? Allora i servizi sono praticamente uguali a quelli delle poste italiane, ovvero ci occupiamo di spedizioni, pagamento bollettini, pago pa, quindi anche ciò che riguarda insomma l'ente, ci occupiamo delle visure, delle ricariche telefoniche, bolli auto, tutto ovviamente viene svolto nelle norme di sicurezza che appunto ci riguardano tutti quanti in questo periodo, l'ambiente è molto grande, molto spazioso, appena il cliente entra c'è la torretta con il sanitizzante, inoltre concludo dicendo che a breve sarà disponibile sempre ovviamente qui da noi il servizio a domicilio, ovvero che l'incaricato, quindi io il sottoscritto, mi recherò presso le abitazioni di chi appunto avrà il domicilio, di chi ne avrà necessità e potrà pagare comodamente bollettini da casa tramite post.